Un esposto alla Corte dei Conti per accertare se ci siano stati danni erariali da parte dell'ASL di Pescara relativi al contratto di locazione per il macchinario diagnostico PET. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che ad oltre un anno dalle due interrogazioni che hanno portato alla luce la nostra questione del macchinario torna a chiedere spiegazioni sulle proroghe d'affitto. A seguito delle nostre denunce nel gennaio del 2016 hanno aggiudicato l'appalto per l'acquisto e l'installazione del macchinario tra l'altro al piano terra di medicina nucleare. Purtroppo ad oggi ancora non si fa nulla perché denunciamo questo. Uno il danno economico che a nostro avviso ci potrebbe essere, lo valuterà la magistratura. Due perché i pazienti vengono iniettati del radiofarmaco al piano interrato, reparto di medicina nucleare, e sono costretti i poverini a salire al piano terra, ad uscire fuori, a salire nel camion, quindi percorrendo un tragitto non dedicato ed entrando in contatto con donne, donne incinte, bambini, le ragazze che sono lì all'accoglienza all'info point e possono mettere a rischio perché loro sono appunto iniettati in un radiofarmaco e possono anche contaminare, potrebbero contaminare, dire, radiazioni. Quindi non è più concepibile che in un paese civile ci sia questa cosa. Se avessimo acquistato al suo tempo questa apparecchiatura avremmo risparmiato oltre 5 milioni di euro e noi diciamo la nostra proposta con quei 5 milioni di euro potevamo acquistare un nuovo acceleratore lineare che oggi serve per fare la radioterapia, magari un acceleratore lineare all'avanguardia che andrebbe a colpire direttamente il problema. Grazie. Grazie.